E quindi anch'io sono pronta per invitare qui su Red Carpet l'ultimo team, anche questo internazionale, abbiamo uno svistero, uno dei grandi giocatori di freestyle e i nostri due italiani, i nostri due romagnoli. Quindi un applauso a Claudio Cigna, Clay Collerà e Reto Zimmerman! Guardate subito come spaventano il vento, per loro è importantissimo, quindi giù la musica, qualche secondo solo per loro. What's going on? Ok, are you ready? Ok, musica! In un mondo che non ci vuole più il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo. e ti fa, ti vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferenti, sorretto da un'anelità in tutto il mondo, libero al moreno. in un'anelità in tutto il mondo, edo il mondo, e gli altri, e gli altri, e gli altri. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!